E cambiamo pagina, raccolta di rifiuti, servizi ai cittadini, tutto questo e molto altro è Savno. Savno, Servizi Ambientali Veneto Nord Orientale. La zona di competenza si estende dalla montagna alla bassa pianura, passando per la collina. Raccogliamo ogni tipologia di rifiuto con mezzi specifici e adatti allo smaltimento. Manteniamo pulita la città, le sue strade e le aree pubbliche. E siamo sempre accanto ai comuni, anche in caso di calamità naturali. Ogni materiale raccolto va destinato ad uno dei nostri impianti per un corretto e utile riciclo, affinché ci aiuti a creare valore per la comunità e l'ambiente. Dall'umido raccolto, infatti, riusciamo a creare ogni anno il biometano, che serve ad alimentare e muovere tutti i nostri mezzi. Siamo vicini alla nostra comunità, offrendo esperienza e servizi dedicati ad eventi e manifestazioni, ma anche collaborando con le attività del nostro territorio, come l'Associazione per le Colline Unesco. Dal 2023 sarà attivo il primo centro di riuso del Veneto, grazie al nostro progetto In House, con cui vogliamo dare una nuova vita a ciò che potrebbe essere ancora utile. La collaborazione di due istituti professionali ci permetterà di coinvolgere gli studenti per rigenerare oggetti ancora in buono stato e destinarli a chi ne ha più bisogno. Il ricavato del progetto verrà devoluto in beneficenza, perché fare la differenza è il nostro mestiere.